Ciao Fabio e ciao a tutti! Non sarà facile giocare su questo campo oggi. Per la partita di oggi si affrontano Colchessa United e Carlisle United. Beppe, come giudichi la squadra ospite? Salvarsi era il loro obiettivo a inizio stagione, ma finora sono andati ben oltre le aspettative, tanto che potrebbero puntare a traguardi più ambiziosi. Passaggio completamente sballato, rimessa per gli avversari. E la palla è ora degli avversari. Pozzi. È riuscito ad artigliare un pallone tutt'altro che semplice. Avanza verso l'aria. Gli toglie la palla dei piedi. Sears. Potrebbe essere buona. Ha provato a fare i difensori, ma è stato formato per offside. Noble. Calibra male il passaggio. Quello fisico per il possesso della palla. Capiscono tutto. Si riparte. Sears. Netta la posizione di offside. Pozzi. Easy. Si avvicina all'aria. Perde il controllo della palla sul contrasto. Gui. Attenzione. Prova a inventarsi qualcosa, ma il tiro finisce abbondantemente fuori. Decisamente l'ha alzata troppo, Fabio. Si muove. Metto James. Teggle preciso ed efficace. Porta palla verso l'aria. Fischio del direttore di gara è fuori gioco. Robson. Hanno interrotto la dramma avversaria e recuperato palla a centro campo. Iset. Hanno provato a sfondare per via centrali, ma sono stati fermati. Grande numero. Entrata decisa ed efficace. Appoggio è fuori misura, sarà rimessa laterale. Ha interrotto il direttore di gara con un ottimo tempismo, permettendo alla difesa di respirare. Ottimo interrompere la giocata degli avversari. Sicurissimo il portiere che va alla presa. Iset. E si chiude qui in primo tempo 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. E c'è ben poco da dire di questa prima frazione di gioco. Sì, finora è stata una partita veramente noiosa. La pioggia non si ferma e accompagna i giocatori anche in questo secondo tempo. Il passaggio è risultato leggermente corto. Scegne il tackle anche duro con trassi scivolata. Robson. Iset. Lee Miller. A spazio, però è il tiro. Ancora in gioco. Tenta di portare di via il pallone. Grossa. Di testa il difessore. Sears. D'Agui. Si spinge in avanti. Siamo nel secondo tempo. La situazione è ancora di parità. Vediamo se questo cambio riesce a spezzare un po' l'ordine della gara. Lancio è calcolato male. Qua è un scivolo a fondo. Carinatore sta effettuando una sostituzione nella speranza di spezzare l'equilibrio. Intercetta la palla a centro campo interrompendo la manovra avversaria. Si porta in avanti. Batta. Eastmond. Palla a pagare. Robson. Gui. Strappano la palla agli avversari. Conquista la palla a centro campo. Cambio in vista per la squadra di casa. Buona scelta di tempo. Ruba palla sulla fascia. Matthew James. Robson. No go. Forza. Avanza verso l'aria. No go. No go. Mi piace inserirsi alle spalle dei difensori ma stavolta è scattato troppi in anticipo. Un cambio tattico per cercare di spezzare l'equilibrio. Vedremo se avrà successo. Jabu Iberi. Edwards. Lillian. Lillian. Iset. Si spinge in avanti. Cinque minuti al termine. Parità. Tutto buon coro succede. Dagui. Iset. È intervenuto sulla palla dimostrando un ottimo bisogno di gioco e senso della posizione. C'è profumo di gol nell'aria. Si fa sotto. Lillian. No go. No go. Iset. È finisce così. Triplice fischio. Non posso crescere d'accordo.